E' acceso per il rappello di Ugo, e questo mi sembra un bellissimo motivo per ricordare questo grande pittore così schivo e che rischia di passare inosservato e dimenticato all'interno di una città come Crema che avrebbe così bisogno di valorizzare le proprie persone straordinarie. Grazie a te. 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 Grazie a te.